Il genio di Porcinai è stato proprio questo, che lavorando per famiglie che avevano possibilità di spendere, è riuscito a servire la natura e raccogliendo da molte tradizioni, quella giapponese, cinese, anche la nostra, ha usato gli elementi, le piante, le ha messi in modo da servirle e da farne dei simboli di un discorso più alto. Il messaggio è sempre più attuale perché più che avanza il disastro della modernità e più che si perde il rapporto con i significati della terra e delle piante e di quel cosmo di cui ogni elemento della natura è un simbolo, è un simbolo che non è solo simbolo, è un simbolo realtà. Grazie. 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 La signora Paola mi ha raccontato del suo desiderio di documentare il lavoro del suo babbo in una maniera un attimino più attuale, diciamo così, di far vivere i progetti di Pietro Porcinai attraverso delle immagini. Questa è stata un po' la sfida che mi ha, diciamo così, motivato a eseguire questo percorso. Grazie. 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 Grazie.